Accorgersi. 3 gennaio. La fatica spingeva la noia. La noia si riproduceva. Offuscato da tanto ripetersi. Moltiplicandosi, offuscavo. Più mi abbandonavo e più perdevo. Ero in lotta senza un perché. Esaminavo l'accaduto passeggero. Lo aiutavo a sorreggersi. Tutto era debole per me. Ma mi sentivo abbastanza. Intanto le cose andavano. Dovevo cogliere solo l'attimo. Così cercavo di perdere fermandomi. Incominciavo ad arricchirmi senza che l'altro abbia potuto accorgersi di quel che mi accadeva. La ricchezza spirituale aumentava. Giorno dopo giornata mi accorgevo di aver imparato parte della vita, porzione che riusciva a far sopravvivere, la mia esistenza tanto particolare. Mi accontentavo al momento. Non lasciavo però che nessuno potesse più superarmi spiritualmente. Ogni spunto era buono per rinforzarmi. Ero diventato forte come una roccia. Silenziosamente accostandomi, poi in me, mi accorgevo di non essere il solo. Ero diventato forte come una roccia.